Abbiamo un elettrone che viene sparato tra due piastre, una piastra positiva e una piastra negativa. Hanno la stessa carica, quindi quella sopra carica Q+, quella sotto Q-, ma il valore assoluto delle due Q è lo stesso. L'elettrone viene lanciato tra le due con una velocità orizzontale di 6 per 10 alla terza metri al secondo. Abbiamo qualche info sulle piastre, sappiamo per esempio che l'elettrone sta a 3 cm dalla piastra positiva e le piastre sono lunghe 10 cm. Sapendo che quello è un elettrone, tra l'altro conosciamo in automatico la sua carica e la sua massa, quindi la carica meno 1,6 per 10 alla meno 19, la sua massa 9,1 per 10 alla meno 31 kg. Aggiungiamo poi che le due piastre producono un campo elettrico di 200 N su Coulomb. Vogliamo scoprire se l'elettrone ce la fa ad attraversare le piastre senza colpirle. In che senso senza colpirle? Tra le due piastre, col fatto che sono una piastra positiva e una piastra negativa, c'è un campo elettrico. Questo campo elettrico va dall'alto verso il basso perché esce dalla piastra positiva e va verso quella negativa. Questo campo è fatto da linee tutte parallele perpendicolari alle piastre. L'elettrone, nel momento in cui entra nella zona tra le due piastre e avverte il campo elettrico, subisce una deviazione, cioè lui vorrebbe tirare dritto perché è stato sparato in orizzontale, ma per colpa del campo elettrico risentirà di una forza che lo spinge verso l'alto. Perché è una forza che lo spinge verso l'alto? Perché le cariche negative, quindi pure l'elettrone, quando entra in un campo elettrico, sente una forza opposta al campo. Campo giù, forza in su. Quindi lui voleva andare in orizzontale, la forza lo tira su. Il risultato è che l'elettrone avrà una traiettoria di questo tipo, ovvero una traiettoria parabolica. Il fatto è che noi non sappiamo dove finisce questa traiettoria, cioè potrebbe tranquillamente succedere che l'elettrone si schianta contro la piastra positiva prima di uscire, oppure riesce a superare a indenne questa zona e semplicemente esce oltrepassando la piastra positiva. Non lo sappiamo, dobbiamo scoprirlo. Prima cosa fondamentale, al di là di tutti i ragionamenti, le cose mistiche, convertiamo le unità di misura. Quindi i 3 cm di distanza dell'elettrone dalla piastra sopra in realtà per noi sono 0,03 metri, così come 10 cm di lunghezza delle due piastre in realtà sono 0,1 metri. La carica e la massa sono già nell'unità di misura corretta, così come la velocità dell'elettrone. La prima cosa che possiamo fare qui dentro è calcolarci quella benedetta forza che l'elettrone avverte. Questa è una forza elettrica, cioè è prodotta dal campo elettrico. Essendo una forza elettrica la sua formula è universale, non dipende da questa particolare situazione ed è Q per E. Occhio, qui come F noi intendiamo la forza sull'elettrone, quindi la Q che compare a destra è la carica che sente la forza. Quindi questa è la carica dell'elettrone, mentre il campo elettrico non è il campo dell'elettrone ma è il campo percepito dall'elettrone. In che senso percepito? È il campo delle piastre. Visto che noi la carica dell'elettrone ce l'abbiamo e il campo elettrico delle piastre lo abbiamo, possiamo calcolarci immediatamente la forza che agisce sull'elettrone. Tutto molto bello, direte, ma che ce ne facciamo della forza per sapere se questo cosa si schianta o no contro la piastra sopra. Il trucco è che noi adesso utilizziamo la forza per ricavare l'accelerazione dell'elettrone. Quale formula lega forza e accelerazione? Il meraviglioso secondo principio della dinamica dello zio Isaac. La forza totale agente sull'elettrone è la sua massa per la sua accelerazione. Questa è F totale, la forza complessiva. In questo esercizio non ci viene detto di tenere conto anche del peso dell'elettrone. Se però ci venisse richiesto dovremmo contare in F totale sia la forza elettrica che il peso. Visto che però qui non c'è stato richiesto, per noi F totale è la forza elettrica, quindi questa formula diventa forza elettrica uguale a massa per accelerazione dell'elettrone. Quindi se io mi isolo l'accelerazione da qua dentro A è forza elettrica fratto massa. Visto che la forza elettrica è Q per E, questo è Q E fratto M. Questa è la formula dell'accelerazione dell'elettrone. Volendo ce la possiamo anche calcolare buttando dentro i valori numerici di Q, E ed M, ottenendo 3,51 per 10 alla 13. Se voglio rappresentarla questa accelerazione come faccio a rappresentarla? Da che parte va? Visto che la forza elettrica tira l'elettrone in su, l'accelerazione dell'elettrone va anch'essa verso l'alto. E qui occhio che c'è il concetto chiave. Questa accelerazione è la stessa sempre, non importa in quale punto della traiettoria noi analizziamo l'elettrone. Cioè io adesso l'ho disegnato lì. Se però lo andiamo a guardare qui o anche più avanti, lui comunque in quel punto sentirà un'accelerazione sempre verso l'alto, sempre di 3,51 per 10 alla 13. Perché tanto il campo elettrico non cambia tra un punto e l'altro, quindi non cambia la forza, quindi non cambia neanche l'accelerazione. Ma che ce ne facciamo di questa accelerazione? Abbiamo detto che quello dell'elettrone è un moto parabolico. E il moto parabolico è descritto da alcune equazioni. Cominciamo a riguardarcele. La prima equazione del moto parabolico è quella relativa al moto orizzontale, che è un moto rettilineo uniforme. x finale uguale a x iniziale più vx per t. Giusto per essere chiari, x finale è la posizione finale orizzontale dell'elettrone, cioè vi dice dove sta rispetto all'asse delle x. L'elettrone, alla fine, x iniziale è la stessa cosa ma all'inizio. vix è la componente x, la componente orizzontale della velocità iniziale, mentre t indica genericamente il tempo. Per la seconda equazione invece, dove ci sono y finale e y iniziale, y finale è la posizione verticale finale, quindi rispetto alle y. y iniziale è la posizione verticale iniziale dell'elettrone. viy, che compare dopo nell'equazione, invece è la componente verticale, la componente y della velocità di partenza, mentre a è la nostra accelerazione che abbiamo usato prima. Ma cosa sono, come le trovo queste due v, vix e vy? Qui entrano in gioco le altre due formule del moto parabolico, quelle che vi permettono di calcolare vix e vy. In questa formula vi è la velocità iniziale, mentre alfa è l'angolo della velocità iniziale rispetto all'asse delle x. Poi, per concludere in bellezza, il moto parabolico ha un'altra coppia di formule, che è quella per le velocità finali. Abbiamo che vfx è uguale a vix, cosa vuol dire? Che la velocità finale lungo l'asse x, la componente orizzontale di vf, è uguale alla v iniziale orizzontale. Tradotto, il moto in orizzontale non cambia mai velocità, solo in orizzontale. Mentre in verticale la velocità finale è uguale alla velocità iniziale in verticale, più a per t, a è sempre l'accelerazione, t è sempre il tempo. Queste sono le sei formule del moto parabolico. Ora, io ho parlato un sacco di rispetto all'asse x, rispetto all'asse y, e voi state pensando, ma quale è asse x e quale è asse y? Qui non ho visto nessun asse cartesiano. Occhio, perché dobbiamo metterlo noi. Quindi, rifacendo un attimo qui lo schema dell'elettrone che si muove tra le piastre, dovete immaginarvi che questo coso si muova su un piano cartesiano. Io vi consiglio caldamente di piazzarlo dove lui parte. Questo coso è quello che in fisichese si chiama sistema di riferimento. E ci serve perché adesso, grazie a lui, noi possiamo inserire tutti i dati a nostra disposizione all'interno delle formule del moto parabolico. Partiamo dalla prima equazione. x finale, quindi sappiamo dove si trova l'elettrone alla fine del suo moto? No, perché noi non sappiamo dove casca, quindi non sappiamo se fa una trarettoria di questo tipo e si schianta contro la piastra positiva, oppure se riesce a procedere oltre. Quindi x finale per noi è un'incognita. La segnerò in verde per ricordarmi che non la conosco. Dall'altra parte, x iniziale. x iniziale questa volta la so, perché se io guardo il sistema di riferimento, il piano cartesiano in giallo, l'elettrone parte a x uguale a 0. Quindi x iniziale vale 0. Poi, quanto vale Vx? Per sapere Vx devo andare nel secondo sistema, quindi la seconda coppia di equazioni, e andare a vedere Vx. Vx è Vi, la velocità di partenza. Questa la so mi è stata data 6 per 10 alla terza, per il coseno di alfa. Quanto è alfa? È l'angolo della velocità rispetto all'asse x. Visto che sto coso partiva orizzontale, alfa vale 0. Questo è il coseno di 0. Se fate 6 per 10 alla terza per il coseno di 0, ottenete 6 per 10 alla terza. Cioè, all'inizio la velocità è solo orizzontale. Quindi, tornando all'equazione di prima, Vx è 6 per 10 alla terza. Il tempo? Non ho idea di quanto valga. Non so quanto ci mette l'elettrone a fare la sua traiettoria. quanto vale Y finale? Y finale sarà 0,03 metri, i famosi 3 centimetri, perché io voglio andare a vedere quando lui raggiunge quella Y, quell'altezza, dove si trova. Cioè, quando lui arriva a 3 centimetri, si è schiantato contro la piastra o è oltre. Quindi, per noi, Y finale è un dato noto, 003. Quanto vale Y iniziale? Lui vale 0, perché l'elettrone nel sistema di riferimento è partito da Y uguale a 0. Andiamo avanti. Ci serve ViY. Vado quindi nel secondo sistema e lì vedo che c'è ViY, che è Vi, 6 per 10 alla terza, per il seno di, abbiamo già detto che alfa vale 0, quindi ViY, se fate il conto, esce 0. Tradotto, l'elettrone all'inizio non ha velocità in verticale. Sapevamo che si muoveva solo in orizzontale. Quindi qui ho 0 per T. 0 per T però fa semplicemente 0, quindi scrivo 0. Poi ho più un mezzo. L'accelerazione la so, l'avevo calcolata prima apposta. 3,51 per 10 alla 13. Occhio che l'accelerazione è positiva perché va verso l'alto, come il sistema di riferimento che ho scelto. E poi ho di nuovo T al quadrato. Questo qui è un'incognita. Il secondo sistema l'abbiamo già sistemato, cioè abbiamo ViX e ViY. Andiamo un attimo a vedere il terzo giusto per star tranquilli. VFX è la velocità finale X. Non è un dato noto, però tanto so che è uguale a ViX, quindi in realtà la so, è 6 per 10 alla terza. Se volessi anche ViFY, questa roba qui è 0 ViY più l'accelerazione 3,51 per 10 alla 13 per il tempo che al momento non so. Quindi, morale della favola, in questo moto parabolico noi abbiamo 1, 2, 3 e 4 incognite. Come risolvo questi sistemi, tutte queste equazioni? Allora, intanto il secondo sistema non ci serve più, nel senso che ViX e ViY l'abbiamo calcolato e quindi questo lo possiamo salutare. E già ci semplifica un po' la vita. Poi, vedo che in questa equazione l'unica incognita che c'è è T. Quindi lo posso isolare subito e lo posso calcolare. Dovete moltiplicare tutto per 2 e dividere per 3,51 per 10 alla 13 e così ottenete T quadro. Se poi volete T, dovete fare la radice quadrata di questa roba. Quindi T è la radice di 2 per 0,03 fratto 3,51 per 10 alla 13. Fate lavorare un po' la calcolatrice e ottenete che T vale 4,13 per 10 alla meno 8. Abbiamo trovato T. Cosa me ne faccio? Vado a vedere che nella prima equazione del sistema del moto parabolico c'era proprio T e ora lo posso sostituire. Questo mi permette di trovare X finale. Fare il calcolo e scoprire che X finale vale 2,5 per 10 alla meno 4. visto che è una X e questo è il risultato dell'esercizio, scriviamo anche l'unità di misura che sono i metri. E uno dice ma perché il risultato dell'esercizio? Beh, abbiamo scoperto che l'elettrone quando arriva all'altezza della piastra positiva, cioè quando è arrivato a 3 centimetri, ha percorso in orizzontale 2,5 per 10 alla meno 4 metri. Che informazione mi dà? Visto che la piastra era lunga 0,1 metri, l'elettrone non ce la fa assolutamente a uscire, anzi farà pochissima strada. Lui va qui e poi praticamente subito gira in su, qua si schianta, fa un bel frontale con la piastra. Quindi la risposta alla domanda è no, non riesce a uscire senza colpire la piastra positiva. E il sistema della VFX, VFY? Per rispondere a questa domanda non c'è servito a niente, non serviva a sapere nulla della velocità finale dell'elettrone. Velocità finale intesa quella con cui lui colpisce la piastra. Nulla, però a questo punto ci vieta di aggiungere una richiesta, cioè proviamo a calcolarci con che velocità l'elettrone colpisce poi la piastra positiva, già che sappiamo che la colpisce. Qui entrano effettivamente in gioco VFX e VFY, perché quelle sono le componenti della velocità finale, cioè proprio della velocità con cui lui arriva alla parte finale della sua traiettoria, quando colpisce la piastra. Occhio, nessuna delle due è la risposta alla domanda. Quelle sono solo la componente X e la componente Y. Per trovare VF, la vera richiesta, ci occorre però avere sia VFX che VFY. VFX sapevamo già che valeva 6 per 10 alla terza, quindi no problem. Per VFY, visto che tanto il tempo ora ce l'abbiamo, possiamo calcolarla, quindi 0 più 3 è 51 per 10 alla 13, per, sostituiamo il tempo, 4,13 per 10 alla meno 8 ed esce fuori 1,45 per 10 alla sesta. Che ce ne facciamo di VFX e VFY? Visto che queste sono le componenti di VF, usiamo il metodo per trovare il valore del vettore originale dalle sue componenti, cioè il teorema di Pitagora. VF è la radice di VFX alla seconda più VFY alla seconda. Se provate a sostituire i valori numerici, ottenete 1,5 per 10 alla sesta metri al secondo. Questa è la velocità con cui l'elettrone colpisce la piastra. VFY all'elettrone colpisce la piastra. All'elettrone colpisce la piastra. All'elettrone colpisce la piastra. Grazie a tutti.